Marco Aurelio, Pensieri Libro quinto All'alba, quando ti svegli di malavoglia, tieni sotto mano questo pensiero. Mi sveglio per svolgere il mio compito di uomo. E ancora protesto per avviarmi a fare quello per cui sono nato e per cui sono stato introdotto nel cosmo? O forse sono stato fatto per restare a letto, a scaldarmi sotto le coperte? Questo però è più piacevole. Sei nato allora per godere? Il che insomma non significa forse per essere passivo? O invece sei nato per essere attivo? Non vedi che le piante, i passeri, le formiche, i ragni e le api svolgono il proprio compito collaborando per la loro parte alla vita dell'universo? E tu allora non vuoi fare ciò che è proprio dell'uomo? Non corri verso ciò che è secondo la tua natura? Ma è necessario anche riposarsi. È necessario, lo dico anch'io. La natura però ha posto una misura anche per questo. Ne ha posto una anche per il mangiare e per il bere. E tu, ciò nonostante, vai al di là della misura, al di là di quel che è sufficiente. Non lo fai più però, quando si tratta di agire. Allora ti tieni nei limiti del possibile. Non ami te stesso, perché in tal caso ameresti anche la natura e la sua volontà. Altri che amano il proprio lavoro vi consumano ogni energia, saltando il bagno, saltando i pasti. Tu onori la tua natura meno di quanto il cesellatore onori il cesello, o il danzatore la danza, o l'avaro il denaro, o il vanaglorioso la sua misera gloria. Eppure costoro, quando si appassionano, sono disposti a non mangiare e a non dormire, pur di vedere crescere l'opera in cui sono impegnati. A te, invece, le azioni ispirate al bene della comunità sembrano di minor valore e meno degne di attenzione. Com'è facile respingere e cancellare ogni rappresentazione molesta o impropria e trovarsi subito in una calma assoluta. Ritenti degno di ogni parole e azione che siano conformi a natura e non cedere al pensiero che ne possano conseguire le critiche o le chiacchiere di alcuni. Ma, se è bene che una cosa sia fatta o detta, non giudicartene indegno. Quelli, infatti, hanno un proprio principio dirigente e seguono un proprio impulso. Tu non tenerai conto, ma raggiungi la meta per la via dritta, seguendo la tua natura personale e quella comune. Una sola per entrambe è la strada. Procedo attraverso ciò che è secondo natura. Finché, caduto, riposerò, esalando l'ultimo respiro in ciò da cui ogni giorno trago respiro, cadendo su ciò da cui mio padre raccolse lo sperma, mia madre il sangue e la mia nutricio il latte, ciò da cui ogni giorno, da tanti anni, trago cibo e bevanda, ciò che mi sostiene mentre lo calpesto e lo sfrutto per tante cose. Non posso ammirare il tuo acume. D'accordo, ma posso ammirare molte altre doti, per le quali non puoi dire «La natura non mi ha dato questa qualità. Metti in campo, quindi, quelle che dipendono interamente da te. La genuinità, la serietà, la resistenza a fatiche e dolori, l'indifferenza al piacere, la piena accettazione della sorte, la sobrietà nelle esigenze, la benevolenza, la libertà, la semplicità, l'avversione per le chiacchiere, la magnanimità». Non ti accorgi quante doti per le quali non puoi assolutamente accampare di non avere disposizione naturale o attitudine sei già in grado di mettere in atto e ciò nonostante continui volontariamente a restare al di sotto dei tuoi mezzi. O è forse la scarsa disposizione naturale che ti costringe a mormorare, a essere gretto, a durare, a lagnarti del tuo povero corpo, mostrarti compiacente, millantare, ondeggiare tanto nell'anima. No, per gli dèi, anzi, di tali atteggiamenti ti saresti potuto liberare da tempo o semmai avresti potuto essere giudicato solo poco pronto o poco dotato di ingegno. Ma anche in questo bisogna esercitarsi invece di trascurare il problema e crogiolarsi nel torpore. Ci sono persone pronte quando hanno conseguito un merito presso qualcuno a mettergli in conto il favore. C'è a chi questo non arriva e tuttavia dentro di sé considera l'altro un debitore ed è ben consapevole di ciò che ha fatto. Ci sono poi altri che in un certo modo non sono neppure consapevoli di quello che hanno fatto ma somigliano alla vite che produce il grappolo e una volta che ha prodotto il proprio frutto non cerca altro come pure il cavallo che ha compiuto la sua corsa il segugio che ha lavorato sulle peste l'ape che ha fatto il miele. E un uomo che ha agito bene non si mette a gridarlo ma passa ad un'altra azione come la vite passa a produrre ancora quando è stagione il grappolo. Ora bisogna appartenere al novero di queste persone che agiscono così in certo modo senza rendersene conto. Sì, dirà qualcuno eppure proprio di questo occorrerebbe rendersi conto perché è caratteristica dell'essere sociale comprendere di agire per la società e per Zeus esigere che lo comprendano anche gli altri componenti della società. Quello che dice è vero ma fraintendi ciò di cui si sta parlando ora perciò sarai uno di quelli che ho ricordato prima. Anche loro infatti si lasciano fuorviare da una parvenza di logica se però vorrei comprendere di cosa mai si stia parlando non temere di dover per questo trascurare alcuna azione utile alla comunità. Preghiera degli Ateniesi Piovi, piovi o caro Zeus sui campi e sulla piana degli Ateniesi o non si deve pregare o si deve farlo così semplicemente e schiettamente come si dice Asclepio ha ordinato al tale di cavalcare o di lavarci con l'acqua fredda o di camminare scalzo così pure si può dire la natura universale ha ordinato al tale una malattia o una menomazione o una perdita o simili. Infatti nel primo caso ha ordinato significa all'incirca ha disposto per lui questa cura in quanto idonea alla sua salute e anche nel secondo caso ciò che accade a ciascuno è stato in certo modo disposto in quanto idoneo al suo destino. Così pure diciamo che le cose avvengono come gli architetti dicono che le pietre squadrate convengono nelle mura o nelle piramidi perché si adattano l'una all'altra in un determinato assetto. Nell'insieme infatti l'armonia è una sola e come dal complesso di tutti i corpi si realizza un simile corpo il cosmo così dal complesso di tutte le cause si realizza una simile causa il destino. E anche coloro che sono completamente sprovvisti di istruzione filosofica capiscono di cosa parlo. Dicono infatti il destino gli ha portato questo quindi questo è stato portato a lui questo è stato disposto per lui allora accettiamo queste prescrizioni come quelle di Asclepio anche tra esse ve ne sono molte pesanti ma noi le accettiamo volentieri nella speranza di ottenere la salute. Considera la compiuta realizzazione di ciò che pare bene alla natura comune come la tua salute e così accetta di cuore tutto ciò che avviene anche se ti risulta alquanto aspro perché conduce là alla salute del cosmo al pieno e felice successo di Zeus. Egli infatti non avrebbe mai portato questo evento a qualcuno se questo evento non avesse comportato un vantaggio per l'universo né una qualsivoglia natura arrecca qualcosa che non sia adatto a ciò che è governato da essa. Perciò devi amare quel che ti accade per due ragioni la prima perché è per te che doveva avvenire per te è stato disposto e con te stava in un determinato rapporto intessuto indietro nel tempo con i fili delle cause più antiche la seconda perché per colui che governa il tutto anche ciò che tocca singolarmente a ciascuno è un fattore che contribuisce alla prosperità alla compiutezza e per Zeus alla sussistenza stessa l'intero viene mutilato infatti se dal complesso e dalle compagnie tu amputi anche solo una delle parti e così pure delle cause e per quanto sta in te quando ti senti in contrasto con il tutto tu amputi e in certo modo sottrai non disgustarti non scoraggiarti e non avvilirti se non ti riesce stabilmente di compiere ogni singola azione secondo retti principi ma dopo un insuccesso ripercorri di nuovo i tuoi passi e si già contento se le tue azioni sono per la maggior parte più degne di un uomo e ama ciò a cui ritorni e non ritornare alla filosofia come un pedagogo ma come i malati agli occhi ritornano alla spugnetta e all'uovo come altri all'impiastro al fomento in questo modo infatti non ostenterai per nulla la tua obbedienza alla ragione ma troverai quiete in essa ricorda però che la filosofia vuole unicamente ciò che vuole la tua natura mentre tu volevi altro non conforme alla natura del resto cosa c'è di più attraente di ciò che è conforme alla natura il piacere non inganna forse proprio perché attrae ma allora osserva se non si educa di più la magnanimità la libertà la semplicità l'amitezza la devozione agli dei e cosa attrae più della saggezza stessa quando consideri che la facoltà di comprendere e conoscere con esattezza assicurano un cammino esente da errori e sicuro in ogni circostanza la realtà la realtà in certo modo è avvolta in un tale sviluppo da essere apparsa assolutamente inafferrabile a non pochi filosofi e non a filosofi qualsiasi per non dire che agli stoici stessi appare difficilmente afferrabile e ogni nostro assenso è mutevole dov'è infatti l'uomo che non muta mai passa quindi a considerare direttamente gli oggetti come abbiano breve durata è scarso valore e possono appartenere a un invertito o a una prostituta o a un brigante dopodiché passa a considerare il carattere di coloro che ti vivono accanto si fa fatica a sopportare anche il più amabile di loro per non dire che uno fatica a tollerare anche se stesso ora in una simile oscurità in una simile lordura intanto fluire della sostanza del tempo e del movimento e di ciò che è in moto non riesco a vedere cosa mai possa esserci che meriti il nostro apprezzamento o in ogni caso il nostro impegno al contrario bisogna confortare se stessi e attendere la soluzione naturale e non spazientirsi per l'attesa ma trovar quiete in queste sole considerazioni la prima che non mi succederà nulla che non sia conforme alla natura universale la seconda che non mi è consentito fare nulla contro il mio dio e demone non c'è nessuno infatti che possa costringermi a trasgredire il suo volere per quale scopo debbo usare ora la mia anima in ogni singola circostanza poniti questa domanda e verifica cosa c'è ora in questa parte di me che chiamano principio dirigente e di chi ora ho l'anima di un bambino di un ragazzino di una donnetta di un tiranno di un animale da allevamento di un animale selvatico quale sia la natura delle cose che ai più sembrano beni puoi capirlo anche da questo ragionamento se uno considera come veri beni taluni che effettivamente lo sono come la saggezza la temperanza la giustizia la fortezza dopo averli così concepiti non può più stare ad ascoltare quel verso per i beni perché non risponde alla sua situazione mentre chi valuta come beni quelli che ai più sembrano tali ascolterà fino in fondo la frase del poeta comico e non avrà difficoltà ad accettarla giudicandola appropriata così anche i più hanno idea della differenza altrimenti non succederebbe che nel primo caso l'espressione urti e venga respinta nel secondo invece accettiamo come conveniente e spiritosa la battuta sulla ricchezza e sui colpi di fortuna che portano lusso o gloria prosegui allora e chiediti se si debbano onorare e ritenere beni cose tali che dopo averle così valutate pare appropriato aggiungere che chi le possiede non ha più per la sua ricchezza dove poter cacare sono composto di elemento casuale e di elemento materiale nessuno dei due si perderà nel nulla come neppure è sorto dal nulla pertanto ogni mia parte attraverso trasformazione sarà ricondotta a una parte del cosmo e a sua volta quella si trasformerà in un'altra parte del cosmo e così via all'infinito anch'io esisto come prodotto di tale trasformazione e così miei genitori e così via procedendo a ritroso ancora all'infinito nulla infatti impedisce di esprimersi in questo modo anche nell'eventualità che il cosmo sia governato per cicli definiti la ragione e l'arte di ragionare sono facoltà sufficienti a se stesse e al loro operato muovono quindi da un proprio principio e procedono verso un fine proposto di conseguenza simili azioni vengono chiamate azioni rette a indicare il loro percorso rettilineo l'uomo non deve occuparsi di nessuna delle cose che non convengono all'uomo in quanto tale non sono esigenze dell'uomo non le ripromette la natura umana non danno compiutezza alla natura umana quindi in esse non si trova neppure il fine posto all'uomo né ciò che realizza compiutamente tale fine il bene ancora se una di queste cose convenisse all'uomo non sarebbe conveniente disprezzarle e combatterle e non sarebbe degno di lode chi mostrasse di saperne fare a meno né se davvero queste cose fossero beni sarebbe virtuoso chi si pone dei limiti in alcuna di esse ora invece uno è tanto più virtuoso quanto più accetta di privarsi di queste e altre simili cose o di esserne privato da altri quali saranno le tue rappresentazioni ricorrenti tale sarà la tua mente le rappresentazioni infatti impregnano l'anima con il proprio colore pertanto impregnala continuamente con rappresentazioni quali per esempio dove si può vivere si può anche vivere bene a corte si può vivere quindi a corte si può anche vivere bene e ancora ogni singolo essere muove verso ciò per cui è stato prodotto il suo fine sta in ciò verso cui si muove dove sta il fine la sta anche l'utile e il bene di ciascun essere il bene dell'essere razionale quindi è vivere in società infatti è da tempo dimostrato che siamo nati per la vita in società o non era evidente che gli esseri inferiori esistono per quelli superiori e quelli superiori esistono gli uni per gli altri e gli esseri animati sono superiori agli esseri inanimati e gli esseri razionali agli esseri semplicemente animati inseguire l'impossibile è da folli ed è impossibile che i malvagi non facciano cose del genere a nessuno accade nulla che egli non possa per natura sopportare a un altro accadono le stesse cose e questi a un altro accadono le stesse cose e questi o perché ignora che gli sono accadute o perché vuole esibire grandezza d'animo resta ben saldo e ne esce senza danno è grave quindi che ignoranza e compiacimento siano più forti della saggezza le cose di per sé non sfiorano in alcun modo l'anima ne hanno accesso alcuno all'anima ne possono modificare o muovere l'anima essa soltanto si modifica e muove se stessa e rende per sé le cose che la raggiungono dall'esterno tali quali sono i giudizi che su di essa si ritiene degna di esprimere per un verso abbiamo più stretto legame con gli uomini in quanto dobbiamo far loro del bene e sopportarli per l'altro invece in quanto certuni mi ostacolano nello svolgimento del mio specifico operato gli uomini divengono per me una delle cose indifferenti non meno del sole o del vento o di una belva ora questi possono si intralciare un'attività ma l'impulso e la disposizione non hanno ostacoli poiché ricorrendo alla riserva li abbattono il pensiero infatti travolge e trasforma ogni ostacolo alla sua attività nel vero valore che la guida e così ciò che frenava quella data azione diventa utile all'azione e ciò che sbarrava quella data via aiuta a percorrerla degli esseri che si trovano nel cosmo onora il migliore è quello che di tutto dispone e tutto governa allo stesso modo anche di quanto si trova in te onora il meglio è ciò che condivide la natura di quell'essere supremo anche in te infatti è quello che dispone di tutto il resto e la tua vita è sotto il suo governo ciò che non è dannoso alla città non danneggia neppure il cittadino ad ogni rappresentazione di un danno subito applica questa regola se la città non è danneggiata da questo non risulto dannezzato neppure io se la città non riceve danno non ci si deve adirare con l'autore dell'azione dannosa ma mostrargli qual è la sua mancanza considera spesso la rapidità del passaggio e della scomparsa degli esseri e degli avvenimenti la sostanza infatti è come un fiume che scorre ininterrottamente le attività soggiacciono a continue trasformazioni le cause a migliaia di modificazioni e non c'è pressoché nulla di stabile e considera proprio qui accanto questo infinito abisso del passato e del futuro in cui tutto scompare come può dunque non essere folle chi in questa situazione è tanto pieno di sé o spasima o si lamenta come se il suo tormento dovesse durare a lungo ricorda l'intera sostanza nella quale partecipi in entità minima l'intera eternità di cui ti è stato assegnato un breve infinitesimo intervallo e il destino di cui tu quale minuscola parte sei un altro commette una colpa nei miei confronti se la vedrà lui ha una propria disposizione interna una propria attività io ora ho ciò che la natura comune vuole che io ora abbia e faccio ciò che la mia natura vuole che io ora faccia il principio dirigente e sovrano della tua anima sia in parte immodificabile dai movimenti dolci o aspri che si verificano nella carne e non vi si mescoli ma circoscriva se stesso e confini quelle passioni nei loro organi qualora invece si propaghino fino alla mente attraverso l'altro genere di simpatia come cioè avviene nell'ambito di un corpo che è unico allora non si deve tentare di contrastare il passo alla sensazione che è naturale ma il principio dirigente non aggiunga di suo l'opinione che si tratti di bene o di male vivere con gli dèi vive con gli dèi chi continuamente mostra loro la propria anima soddisfatta di ciò che gli viene assegnato in sorte e in atto di compiere quanto vuole il demone che Zeus quale frammento di sé ha dato a ciascuno perché lo guidi e lo diriga questo demone è l'intelletto e la ragione di ciascuno ti addiri forse con chi puzza di caprone ti addiri forse con chi ha l'alito pesante e che ti farà mai alla bocca che si ritrova alle ascelle che si ritrova è inevitabile che dalla condizione in cui si trova derivino simili effluvi ma l'uomo si obietta possiede la ragione può comprendere riflettendo in che cosa sbaglia benissimo quindi anche tu possiedi la ragione con la tua disposizione razionale smuovi la sua disposizione razionale indicagli richiamagli l'errore se ti ascolta lo curerai e non ci sarà bisogno di adirarsi né attore tragico né prostituta qui è possibile vivere nello stesso modo in cui pensi di vivere una volta uscito di qui e se non te lo dovessero permettere allora esci anche dalla vita come chi però non patisce per questo nulla di male c'è fumo e quindi me ne vado perché credi che sia un fatto importante finché però nulla di simile mi spinge a uscire rimango libero e nessuno mi potrà impedire di fare quello che voglio e il mio volere è conforme alla natura dell'essere razionale e sociale la mente dell'universo è favorevole al vincolo sociale quindi ha prodotto gli esseri inferiori per quelli superiori e ha posto gli esseri superiori in reciproca connessione vedi come ha subordinato coordinato e assegnato a ciascuno secondo il merito e come ha condotto gli esseri eminenti a reciproca concordia come ti sei comportato fino ad ora verso gli dèi i genitori i fratelli la moglie i figli i maestri gli istitutori gli amici i parenti gli schiavi se fino ad ora per te è balzo nei confronti di tutti il principio di non fare né dire ad alcuno nulla di ingiusto ricorda anche attraverso quali esperienze sei passato e quali sei riuscito a sopportare e ricorda che ormai la storia della tua vita è compiuta e il tuo servizio è alla fine e quante cose belle hai visto e quanti piaceri e dolori hai disprezzato e quante occasioni di gloria hai trascurato e con quanti ingrati sei stato benevolo perché anime senza arte e ignoranti confondono un'anima che è arte e scienza ma qual è allora l'anima che è arte e scienza quella che conosce l'inizio e la fine e la ragione che attraversa l'intera sostanza e che lungo tutta l'eterrità governa il tutto per periodi definiti e men che non si dica cenere o scheletro è semplice nome o neppure più nome e il nome è solo rumore e voce che risuona le cose che nella vita si considerano tanto preziose sono vuote marce piccole botoli che si azzannano bambini rissosi che ridono e un attimo dopo piangono la lealtà invece il pudore la giustizia e la verità dalla terra dalle ampie strade sono volate sull'Olimpo allora che cos'è che ancora ti trattiene qui visto che gli oggetti della sensazione sono quanto mai mutevoli e instabili gli organi della sensazione ottusi e corrivi a impressioni illusorie la stessa povera anima è alito che evapora dal sangue e aver buona fama presso gente come questa è cosa vacua e allora attenderai sereno di estinguerti o trasmigrare e finché non sarà giunto quel momento che cosa basta fare che altro se non venerare e benedire gli dei far del bene agli uomini e sopportarli e astenersi e ricordare che quanto cade fuori dei limiti della tua misera carne e del tuo misero soffio vitale non è tuo né in tuo potere hai sempre la possibilità di fare un viaggio felice poiché hai anche la possibilità di procedere per la retta via e conformare ad essa le tue opinioni ed azioni all'anima del Dio e a quella dell'uomo e di ogni essere razionale sono comuni queste due facoltà non essere impediti da altri e riporre il bene nella disposizione interna e nelle azioni conformi a giustizia portando ad esaurirsi qui ogni desiderio se questa non è cattiveria mia né azione che avvenga per mia cattiveria e se la comunità non ne viene danneggiata che interesse posso avere alla cosa quale danno ne viene alla società non lasciarti trascinare totalmente dalla rappresentazione ma presta il tuo aiuto agli altri secondo le tue possibilità e secondo il loro merito anche se il danno che lamentano riguarda le cose intermedie ma allora non rappresentartelo come un danno è una cattiva abitudine invece come faceva quel vecchio che al momento di andarsene chiedeva la trottola del suo pupillo ben ricordando che si trattava di una trottola così appunto fai anche tu qui uomo ti sei dimenticato di cosa si trattava si lo ricordo bene ma per costoro hanno grande importanza e per questo quindi dovresti diventare pazzo anche tu un tempo ero in qualunque situazione fossi colto un uomo fortunato ma fortunato significa che ha assegnato a se stesso una buona sorte e una buona sorte significa buone inclinazioni dell'anima buoni impulsi buone azioni grazie a tutti